a me speriamo di cominciare a campanudo e qui? qui? io sogno l'ape ah il reggito si ciao come siamo comandati e che vuoi? a me speriamo che avremo che fare? che vieni a fare? che? perchè un padre? si muovete? a me perciò un altro non lo ricordo che avremo a fare a me speriamo di fare ah ah senti taylor tu ricordi che avevamo stasera? no che avevamo senti triggio la stammissare più ora che vuoi fare? che buona mia spiegati vieni che c'è festino non lo ricordi più a me si muovete vedi vestiti a me le scappe buone alla misa si ma cosa consuma? come cosa consuma? margherita ma come margherita? la figlia di jonne? ma che mi stai dicendo? si si la odia vero è ti so cosa la odia? perchè? ho il colore la bottiglia si è è è è il colore delle forze buono a cosa c'è su cucina mariella? avevo tuttora dentro? chi è che forze? ma se posso sapere che ci arrivi? ma che posso sapere che cosa hai fatto io? comunque spiegliamone perchè sennò la forze potrebbero andare a diventare va bene cominciai tu allora andiamo in posta va bene intanto io ci faccio l'agore augure margherita? ok